grazie mille grazie come sempre al nostro incredibile ciurro grazie a Dennis, grazie a Rita, grazie a Diego grazie a Vecchio Mandrillo Kenyatta, laggiù al banchetto del merchandising ma questa sera, soprattutto questa sera grazie a Beric Talu che compie 60 anni e allora se Talu compie 60 anni adesso gli facciamo tanti auguri ci proviamo su sto tempo qua che non è facile proviamo, ci provo e rimettete e via a Beric Talu 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.